benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte del riciclo di alberto de luca oggi ho preparato per voi un nuovo giocattolo realizzato con materiali di riciclo i materiali di riciclo sono tutti quei materiali plastica metallo o altri materiali che possono essere adoperati per poter realizzare qualsiasi idea le ruote posteriori di questo trattore sono dei tappi di plastica in realtà però non sono i tappi di plastica delle bottiglie ma sono dei tappi che si trovano su alcuni filtri che servono naturalmente a far funzionare il motore di macchine oppure tanti motori questi filtri quando si fanno vecchi vanno cambiati e allora io che so come si fa che cosa faccio svito questo supporto in plastica che ha tutte queste vedete queste scanalature tipo ruota è proprio come se fosse una vera ruota di trattore poi che cosa faccio li lavo per bene gli metto del nastro adesivo di colore nero dopo essersi asciugati e poi metto sopra incollo sopra una placca di metallo questa qui metallo l'ho recuperata da alcuni vecchi dischi quelli che servono per tagliare il metallo e che il papà usa per fare tanti lavori di lavori fai da te all'ultimo quando il dischetto del metallo è finito c'è questa placchetta che si può recuperare naturalmente il papà sa come recuperarla voi non ci provate nemmeno per quanto riguarda invece le ruote anteriori ho utilizzato un semplice gommino di quelli che si utilizza utilizzano gli idraulici se un idraulico è stata a casa vostra sicuramente avrà lasciato un gommino del genere a terra io li ho trovati nella spazzatura che aveva lasciato il mio idraulico le placche invece queste placche in metallo sono dei bulloni vedete sono dei piccoli bulloncini ora questi bulloncini li ho presi da un vecchio da una vecchia scaffalatura in metallo che praticamente ho buttato via però ho recuperato alcune parti ed ecco li ho messi qua per fare le ruote anteriori del trattore passiamo ora alla parte frontale vedete la parte frontale del trattorino allora per fare il logo del trattore i fari ho utilizzato delle perline di plastica per fare invece la parte della mascherina anteriore questa verde e il supporto vedete anche questa parte nera ho utilizzato una doppia presa naturalmente rotta ed ecco la doppia presa l'ho smontata io se voi bambini dovete fare una cosa del genere la dovete fare fare a un adulto non dovete smontare nessuna doppia presa la parte del cofano questa parte qui è realizzata invece con un manico di una vecchia lametta è la parte del raffreddamento del motore del filtro dell'aria del motore tutta questa parte qui è realizzata con un supporto di un vecchio regola ciglia che è rotto praticamente allora io ho recuperato la parte della plastica poi abbiamo gli specchietti rotovisori eccoli raddrizzo un po per farveli vedere meglio ecco questo e questo sono delle placchette in metallo che si trovano nelle spine telefoniche il motore è realizzato con dei supporti in metallo poi ho messo dei fili di piombo e poi ho messo una vecchia batteria per volano la parte di sotto vedete della base non è altro che una vecchia calamita che utilizzavo per chiudere i pensili no poi abbiamo i copri ruote questi in metallo vedete questi qua sono dei supporti che gli idraulici utilizzano per poter fissare i tubi al muro i tubi dove ci passa l'acqua dove ci passa il gas oppure i tubi della caldaia ora naturalmente certe volte sono difettosi o sono sformati e li lasciano a terra no nella spazzatura io ne riprendo e ci faccio appunto i corpi ruote del mio trattore per esempio anche questo qui vedete questo è un interruttore un alza vetro che trovato all'interno delle macchine per alzare abbassare il vetro io l'ho preso e io ho fatto il sedile del trattore e il diciamo così il salvaguidatore il salvaguidatore che cos'è se il trattore si ribalta mentre lavora intanto c'è questo supporto quest'altro supporto in metallo che impedisce che il trattore faccia in questo modo vedi e il trattore si ferma di lato e quindi quello che ci sta sopra in caso di un incidente praticamente rimane salvo si salva la parte per esempio del volante tutti i comandi sono fatti appunto con degli spinotti ma poi ho utilizzato per quando riguarda lo sterzo un un bottone ecco ho messo la targa ho fatto il tubo di scappamento con un vecchio spinotto e ho realizzato naturalmente questo trattore no per voi ho fatto il sollevamento il sollevatore non il sollevamento del trattore con dei ferretti per capelli insomma ho realizzato questo piccolo modellino spero che vi piaccia sempre spero che sia gradito e se così è continuate a vedere il mio canale continuate a cliccare sui miei video lasciate un like un commento oppure cliccate la playlist nella playlist troverete oltre ai video tutorial su come fare i giocattoli con materiali di riciclo oltre a video come questi dove illustro un nuovo giocattolo potete trovare anche dei video fatti sulla natura grazie proprio a questo riciclo alla pratica del riciclo dovete sapere che noi possiamo aiutare la natura a stare meglio perché se puliamo il mondo la natura il mondo in cui viviamo sta meglio e quindi stiamo meglio tutti e grazie a queste opere posso comunicare comunicare la mia idea di riciclo e la mia idea per un mondo nuovo e migliore adesso vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento ciao 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 ciao